Partita che si chiude con la grande occasione per centrare la clamorosa rimonta e invece, solo illusione, finisce in pareggio. Le due squadre dunque si dividono il risultato. Nessuno ha trovato un lampo decisivo. Credo che ci possa essere comunque soddisfazione da parte degli allenatori. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata Luca? Quando una gara finisce senza vincitori, lascia sempre un po' di amaro in bocca all'una o all'altra squadra, a volte anche a tutte e due. Io credo che oggi i giocatori in campo non si possano rimproverare più di tanto, però. Siamo ai saluti finali. Un grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronaca. Grazie e a presto, Fabio. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.